Gentili telespettatori, buona giornata. Alessandra Totte, la governatrice, presidente di regione Sardegna, sapete che il centrodestra aveva deciso di regalare la Sardegna alla sinistra, sapete no? Ecco. E quindi ci troviamo oggi la Todde che pontifica e dice che l'Italia non è il paese della felicità che racconta la premier Giorgia Meloni. Beh, bugia. La premier Giorgia Meloni non ha mai parlato di un'Italia paese della felicità. Non le ho mai sentito dire Italia paese della felicità. Quindi prima frase, prima bugia. Non si fa la politica sulle bugie, ma andiamo avanti. La presidente della regione a otto e mezzo dice tante famiglie in sofferenza e giovani senza prospettiva. Anche qui, tante famiglie in sofferenza, sì, però è una frase qualunquista, tante famiglie in sofferenza ci sono dall'inizio della Repubblica dopo la Seconda Guerra Mondiale fino ad oggi e ci saranno sempre tante famiglie in sofferenza. Un paese di 60 milioni di persone con famiglie non in sofferenza non esiste. Quindi frase veramente populista, però è una grillina. Giovani senza prospettive. Non è vero, giovani senza prospettive. Diciamo che non ci sono un granché di prospettive, ma qualcuno ha le prospettive e qualcuno no. Dipende dalla famiglia, dipende dallo stato economico, dipende dagli studi, dipende dalla regione, dipende da dove vivi, dipende dalle conoscenze che hai, dipende da se sei capace a mandare bene i curriculum. Quindi giovani senza prospettive è falso. Ci sono delle difficoltà perché non ci sono un granché di prospettive, ma dire che i giovani in Italia sono senza prospettive, fare di tutta un'erba, un fascio è assolutamente qualunquismo. Però vi ripeto, essendo una grillina si parla di populismo e qualunquismo. Quindi nessun paese della felicità, ma un'Italia più povera, con tanti giovani che non se la sentono di costruire una famiglia. Beh, questo è vero. Un'Italia sempre più povera, sì, la povertà è aumentata di solo uno 0,2%, però è aumentata. Con tanti giovani che non se la sentono di costruire una famiglia, non è se la sentono, non c'hanno i soldi, questo è il punto. E così Alessandra Todd nella trasmissione 8,5 sulla 7 tenta di smantellare la descrizione fantasiosa che secondo lei avrebbe fatto la Meloni, ma che non ha mai fatto. Le famiglie sono più povere, il precariato è aumentato. Altra bugia. Le famiglie sono più povere? Non è vero. Aumenta la povertà individuale, mentre per le famiglie c'è un aumento delle retribuzioni, del potere d'acquisto e un aumento, un incremento delle possibilità di spesa delle famiglie. C'è un più 1% già scorporato dall'inflazione. Quindi le famiglie sono più povere? Falso. Aumenta la povertà individuale, ma le famiglie sono più povere? Falso. Precariato è aumentato? Falso. Il precariato è diminuito, ma fortissimamente, se mi permettete questo termine. E il precariato è diminuito fortemente. C'è un'impennata dei contratti a tempo indeterminato e una diminuzione drastica del precariato. Ricordatevi che il precariato non potrà mai sparire. Cos'è il precariato? quando vi fanno un contratto di tre mesi perché lavorate al bar della spiaggia. Non è che quello del bar della spiaggia vi può fare un contratto a tempo indeterminato se la spiaggia apre solo tre mesi. Quindi capirete bene che il precariato si può diminuire, ma non si può cancellare. Perché il precariato non è il male assoluto. Il contratto precario viene fatto perché l'imprenditore ha bisogno di una figura professionale per un certo tempo. Poi c'è il precariato doloso, c'è quello che vi assume col contratto a termine e poi vi fa un altro contratto a termine, poi un altro contratto a termine perché per tanti motivi, ci sono tanti motivi. Quindi quello è un precariato fatto doloso, invece poi c'è il precariato come quello del bar della spiaggia che non ci puoi fare niente. Però il precariato non è in aumento ma in forte diminuzione. Quindi andare in televisione a dire che il precariato è in aumento è assolutamente falso. E poi aggiunge c'è una visione di futuro molto diversa dal passato. Questo è evidente anche dalla natalità, dal fatto che i giovani non hanno più voglia di costruire una famiglia. Beh, falso anche questo. I giovani non hanno voglia di costruire una famiglia. No, non hanno i soldi. Non è questione di voglia, è questione di soldi, quindi altra bugia. E andiamo avanti. E non hanno la capacità di scommettere sul proprio futuro. E che sono degli stupidi? Non hanno la capacità di scommettere. Cosa vuol dire non avere la capacità di scommettere? È una frase infelice questa. Non hanno la capacità di scommettere sul futuro. Vuol dire che sono degli stupidi? Generazioni di stupidi? Bah. La politica che questo governo porta avanti non aiuta giovani e famiglie. La politica di questo governo non aiuta giovani e famiglie. E per aiutarli cosa deve fare? Per aiutare i giovani che deve fare? Deve fargli le ripetizioni a Palazzo Chigi di scuola? Governo che non aiuta famiglie e giovani. Che deve fare uno Stato che non ha soldi? Che è fortemente indebitato? Che deve fare? Quindi capite che questo è il più classico dei classici qualunquismo e populismo grillino. Per quanto la Presidente di Regione possa anche sembrare simpatica, eccetera, eccetera, però le cose che dice sono proprio del classico grillismo da quattrocentesimi. Ecco. E dice il governo Meloni ha diminuito i fondi del PNRR sugli asili e l'elenco è lungo. E faccelo questo elenco lungo? Non lo sa qual è l'elenco lungo. Ha diminuito i fondi sugli asili? Quello è tutto da vedere. Uno dei motivi per cui il campo progressista ha vinto nella mia regione è perché, questo è da ridere, no? È perché è riuscito a dare una visione di futuro a chi l'aveva persa. No. Il campo progressista ha vinto in Sardegna perché Salvini e Meloni hanno litigato per il candidato alla Presidenza e molti leghisti e molti di centrodestra hanno votato, hanno messo la croce su un partito e la croce su un altro candidato, proprio per fare un dispetto all'interno del centrodestra. Quindi la regione Sardegna è stata vinta perché è stato un regalo del centrodestra. Eh già! Eh sì! Se voi guardate in Sardegna il centrodestra ha avuto più voti del centrosinistra, ma ha avuto meno voti il candidato. Non perché non valesse il candidato e che questa era una super donna, semplicemente perché quello che è successo prima hanno litigato. Quindi questa è la bugia più grossa che ha detto in televisione, quella che il campo progressista ha vinto perché è riuscito a dare una visione di futuro a chi l'aveva persa. Amava la visione di futuro. Ma quale visione di futuro? Vabbè. Quello che non vedo, che vedo non è il paese della felicità, ma in sofferenza dove le persone non riescono a scommettere sul domani dal punto di vista del lavoro e dell'economia. Non possiamo festeggiare. Continuano a dipingere il paese delle meraviglie? Non aiuta. Il paese è profondamente diverso da quello che racconta la Premier, ma in realtà la Premier non racconta di nessun paese. Beh, ultima bugia. Arrivederci a tutti e grazie.